Il comandante di una nave svedese, preoccupato delle numerose vittime causate dagli attuali pericoli della navigazione, ha ideato uno speciale tipo di giacca di salvataggio. Con un tuffo nelle acque di un canale, l'inventore offre una dimostrazione pratica dell'efficacia del nuovo salvagente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS